Questi volantini verranno consegnati soprattutto nei luoghi di aggregazione e socializzazione dove ritroviamo di più gli anziani, ovvero nei centri diurni, nelle parrocchie, dove all'interno di queste brochure ritroviamo le scuse più frequenti che vengono fatte per truffare gli anziani e alla fine di questa brochure ritroviamo un numero da chiamare in esigenza oppure se si ha il timore di essere stato vittima di una truffa. Però una cosa che consiglio, chiamate sempre le forze dell'ordine. In campagna elettorale ho proferito questa affermazione, nessuno sarà mai solo. Stamattina ne abbiamo dato una ulteriore testimonianza rispetto a quello che lei definiva un tema odioso. Io direi a volte dal punto di vista sociale disumano perché prendersela con queste fasce vulnerabili, magari puntando sugli affetti verso nipoti, figli o marito o moglie, è davvero un atteggiamento intollerabile. Per questo noi abbiamo dato testimonianza anche della compattezza, della presenza dello Stato con prefettura, enti locali quindi comune e forze dell'ordine affinché si possa partire con una campagna di sensibilizzazione per evitare che ci siano queste truffe ma anche di supporto. eventualmente fosse commesso un reato di supporto a chi lo dovesse subire. Certamente è una questione che anche nella nostra città purtroppo si verifica ma devo dire che i grandi risultati che le forze dell'ordine hanno conseguito comunque ci tranquillizzano.